ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono carlitos e che come c'è andrasce da quanto tempo è da tantissimo tempo e su che gioco poi che cazzo è sto gioco ops non si possono più dire parolacce ecco che bip è sto gioco che bip 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 guarda ora c'è già gente a sparare questo ragazzo è world of warplay un gioco di mamma vg che esiste da ormai un paio da anni però quello che ho deciso di questi bianchi vero o le ii chi il oh c'è gente non distruggo io pezzo di merda madonna che bello dove da un braccio andiamo a prendere quello con la chiave inglese comunque dicevamo siamo su world of warplay mappa sabbiero 20 moletta invasione o conquista sembri proprio che ne sai tanto di questo gioco cazzo se guarda lui che faremo le pirouette guarda sono a fianco a te aia aiuto ho ho mi sa che butto ho sei di vita il 56 nooo ma qui c'è la chiave inglese io spero che aggiusti e prova ad atterrare andrea forse te aggiusta ma no ma anche i carrelli io ce ne ho i carrelli provo io prova sì alla mia alle mie ore tre ore c'è no ore 9 e si anche sono quasi le 22 però ore 9 andrione ma questo mi viene addosso i pazzi c'è la torre ma noi le torri li facciamo danno sì ma rifiutamente poco forse non è mio quindi settore catturato allora dammi vita forte perché vedi che anche a fianco a noi c'è una chiave inglese è la storia a terra ma non c'ho i carrelli no no tu muori o sai di vita non è che quindi dove si va o tutto a destra nelle piramidi tutto a destra nel piramidi mi piace vai io me ne sto basso anch'io addio che se credo che sia peggio star bassi ebbe che ti beccano le contraeree no no io so sopra no ma in te lì resta a basso per le contraere dici ah boh scrivetelo nei commenti va che è meglio ma infatti io sono abitato a world of tanks non state basso e insomma non c'è nessuno da nostra parte bene ma si cattura noi fai fuori i triangolini e se li trovo eccoli ci abbiamo amici fritz me hanno fatto fuori la contraerea che ti tanto aiutami vai rientro da dobbiamo catturato arrivo subito da te sì mi chiamano che si fanno il culo aia aia traverso di me rientra ti prendo ti prendo baby ti prendo baby cosi scala pam 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 che bello quando li colpisci però che fa tutto se pare moria troppo bello prendi no morì no per poco ma forse troppo il lato no ce l'ha poco però le mancava 5 divide io vedo tanti fumi neri vedo io provo ad andare sulla destra anzi sulla sinistra vediamo un po è proprio da solo non fai un cazzo da solo non si fa assolutamente un cazzo no malona la teglieria c'era contraria mi fa fuori però la teglieria l'ho beccata se boh può essere sto facendo schifo in questa partita cazzo prima eravamo dei mega pro ha fatto il primo posto lui l'esperienza le fa schifo curti sentiamo ai sparatratatatatatatatatatatatatatataten armamento surriscaldato male potenza russa assist atte arrivo in centro lina cosa brutta di questa che non ha motore. Oh, ma vuoi morire? Oh, ucciso. Dove va fuori quel TSH3. Grande Carlone. C'ho il motore in fiamme, potrebbe essere un pericolo. Vedo gente sotto, vedo gente sotto, vado a prenderlo. Minchia andrà, c'è te si è proprio in mezzo alla minchia, alla mischia. Un botto di gentili, no no no. Vai, 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 vai. Arrivo. E che sto fumando, non è incredibile. E' distrutto. Vai in altro, vai in altro. Assist. Bella assistenza. Oh, è con Dracce, è con Dracce. A chi stai mirando a Dracce? Eh, non lo so. C'è uno sopra di me. Uno sopra di te. Sì, li vedo. No, ha morto. Eh, che cavolo. Allora, ditele, siete però, cazzo. Eccola qua, lì, 16. Eh, ne abbiamo uno nel culo, però. No, vai tranquillo. Ma sei tu che spari queste mie tete. No, 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 so lontano. Poi andiamo direttamente in quelle in mezzo, cioè nelle piramidi. Guarda come si becca anche da lontano, cazzo. Poi andiamo direttamente in quelle sulle piramidi. Ne ho uno in coda. Io ne ho uno davanti. Oh, gira, 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 gira. No, no. Chi è che mi spara? Tiralii! Secondo me questo qui è un botto. Eh, ve lo fa la provata. Il motore è danneggiato. Soffia. Anch'io. Aiuto. Questo è un botto. Questo qui va dritto e non spara nemmeno. La victoria è vicina! Ehi, la madonna che botta! Bella! Andiamo alle piramidi! Sì, benissimo ma va bene, ci si prova! Bella, bella, bella battaglia! 5600 punti e te 3200! Oh! Nooo, mi hanno fatto fuori i pezzi di cacca! Impossibile di inserire una sortita! Nooo! Vuoi una sortita? Vado a giocare anch'io! Andiamo a vederci Andreone! Dove devi stare sotto con tutto di questo! Ciao, bello! Oh! Oddio, mi ha già contributo dell'abbattimento! Oddio, è passato vicino quella, ho fatto paura! Via, via, via d'acqua! Ecco Andracce, ecco Andracce! Sei sotto il fuoco della contraerei! Attenzione! Aiuto l'acqua! Ciel! Ma te l'hai visto da fuori! Certo! Che figata! Michia! Vittoria! Ai ai ai! Seconda classe! Bella roba! Poco di supporto! Io nessuna medaglietta però, porca di calma! Io ho un sacco, anche il grado, grado 4! Allora sei pro anche qui, dillo allora! Sì, io pro! Come siamo messi in squadra? Messi bene? Oro bonus 50 gold! Buona che lo fa! No, 50 gold! 7500 danni è mollato, bravo! Eh sì, eh sì! Il più bravo di noi ha fatto 9600! Mi zeca! E' fatto due... Quattro... Quattro ne è distrutto! Eee bene ragazzi! Per questa partita è tutto! Anzi, per questo video è tutto! Ci vediamo alla prossima! Ciao! Ciao ciao!